Buoni propositi per il 2022, sicuramente intitolo questo video a ripartire da me. Ciao sono Ambra e benvenuti in questo nuovo video che è in collaborazione con Freshly Cosmetics, il brand che ho scoperto nel 2021, di cui ho testato una vastissima gamma di prodotti e che mi ha catturato per i valori vegan, attenti all'ambiente, ai packaging. Brand sviluppato attorno a preziosi attivi naturali che rinchiudono dei piccoli e propri miracoli della natura. Nel corso di questo anno mi avete visto utilizzare diversi degli loro prodotti, avete anche il mio codice sconto che è valido sempre su tutto il sito ed è Ambra.it, mi sconta un 25% su tutto il sito. Questo è un video molto differente perché Freshly Cosmetics mi ha offerto la possibilità di porre dei buoni propositi per il 2022 e di conseguenza anche di guardarmi dentro, nel profondo. Spero che questo video possa catturare la vostra attenzione, possa lasciarvi un messaggio positivo e spero anche di farmi conoscere di più, con tutti i miei punti di forza, i miei difetti, le mie fragilità e insicurezze. Ciao sono Ambra e sono tremendamente umana, forse è questo il motivo per cui tanti di voi continuano a seguirmi da ben 10 anni qua su YouTube. Cerco di comunicare dei valori per me fondamentali, ovvero l'amore di sé. Sappiamo che la bellezza, il beauty e la cosmetica è solo un mezzo, non un fine, per amarci, prenderci cura di noi, col fine ultimo di raggiungere una grande consapevolezza. Noi siamo, a prescindere dall'immagine che ci rimanda uno specchio, a prescindere dalla ruga, dall'imperfezione, noi siamo altro. Il 2021 è stato molto impegnativo per me e il 2022 si è aperto in modo altrettanto delicato. Quando le cose intorno a me non vanno c'è sempre una frase che mi è da ispirazione, tratta da uno dei miei libri preferiti, Il vecchio il mare, Ernest Hemingway. C'è un momento in cui lui lotta contro questo pesce enorme, questa barchetta piccola, sperduto in mezzo al mare e sta lottando per la vita e la morte, non ha un arpione, non ha nulla e a un certo punto il vecchio pescatore dice ora non è tempo per pensare a ciò che non hai, pensa a quello che puoi fare con ciò che hai e miracolosamente, grazie ad astuzia e ingegno, uccide il pesce e si salva la vita. Quando qualcosa non va, scricchiola, siamo umani, la nostra vita non potrà mai essere perfetta, nonostante il messaggio che ci rimanda ai social, dobbiamo sempre concentrarci su ciò che è di positivo e ripartire da lì, tenere alto il sorriso sempre, anche quando persone o condizioni esterne proveranno a spegnerlo perché lo faranno, lo faranno sempre. Buoni propositi del 2022. Avere consapevolezza che il tempo passa, continuerò a prendermi cura della mia pelle attraverso la skin care. Parto dal contorno occhi dove la pelle è 5 volte più sottile rispetto a quella del viso, non ha ghiandole sebacee e quindi è più soggetta a secchezza e alla formazione di rughette. dell'età o d'espressione. Hyper Concentrate Eye Contour Serum, che contiene acido dialoronico di origine vegetale, quindi adatto ai vegani, è un alleato prezioso per prendersi cura delle rughette del contorno occhi, ma anche di borsi e occhiaie, per prevenire questi aspetti e contrastarne la comparsa. Applico questo serum mattina e sera dopo averlo agitato bene, si assorbe subito, è piacevolissima l'applicazione, e la texture è leggera, non unta. Immediatamente lo sguardo sembra più riposato, levigato e disteso. Con l'uso continuato nel tempo, tra l'altro, si possono tranquillamente notare alcuni benefici, tra cui la riduzione del gonfiore, della stanchezza perioculare, l'idratazione della contorno occhi e subito massimizzata. In più, questo acido dialoronico aiuta attivamente a contrastare la comparsa di nuove rughe o a minimizzarle la parvenza di quelle già presenti. È un buon supporto anche per attenuare la parvenza dell'alone scuro, dato dall'occhiaia, dall'iperpigmentazione della zona del contorno occhi o dalla presenza di macchie. Io credo che prendere atto del tempo che avanza, anche attraverso i segni che lascia sul nostro viso, sia una delle più grandi manifestazioni di intelligenza, amore di sé, ma anche consapevolezza, che siamo altro, oltre che questo bagaglio, più o meno bello, che ci portiamo in giro per il mondo. Siamo anima, siamo mente, siamo spirito, siamo energia. Omega Rich Cream, in questo è stata una rivoluzione. Questa è una crema serale, notturna, fantastica. Al di là di questo, mi ha colpito il messaggio che lancia questa crema. Non lottare contro il tempo che avanza, non guardare con orrore i primi segni dell'invecchiamento. Contrastali con amore, con cura, ma senza farne un'ossessione. Omega Rich è un'esperienza sensoriale prima di una crema, è meravigliosa. È formulato in base a un attivo che si chiama Anti-Age Exposome Active, ed è un attivo naturale che stimola la produzione di nuovo collagene, anche una potente azione antiossidante. La te previene le rughe, aumentando l'idratazione della pelle del 130%, e vi garantisco che è così, se la proverete mi saprete dire. Regala un bellissimo effetto lifting naturale e aumenta la compattezza della pelle. La Omega Rich diventa una coccola nella routine serale di chi ama guardarsi allo specchio per diversi minuti e prendersi cura della propria pelle. E a proposito di guardarsi negli occhi, sapete dirmi un momento in cui vi guardate negli occhi per minuti e minuti? Guardate nel profondo dei vostri occhi attraverso uno specchio, se non nel momento in cui andate a fare skin care. Così come nel 2021 continuerò a portare Air Detox Plan anche nel 2022. Usare una routine detossinante, basata su prodotti completamente naturali per i miei capelli, quindi prodotti che non contenessero siliconi, oli minerali, pek, parabeni, è stata un po' una rivoluzione per me. E devo ammettere che in questo duo, che lavora benissimo in sinergia, ho trovato un'ottima risposta che equilibrasse la resa sui miei capelli adattivi completamente naturali. Continuerò a utilizzare con piacere sia lo shampoo che il balsamo. Vi ho già parlato lungamente di questi due prodotti, mi danno un ottimo risultato, mi aiutano a tenere a bada il crespo, regalano lucentezza e anche leggerezza ai capelli. I miei capelli sono effettivamente molto pettinabili, una bella lucentezza, una fibra sana, e sono anche cresciuti tantissimo. Altro buon proposito a tema beauty, che mi ispira a Freshly Cosmetics, è proseguire il trattamento con Air Grow & Density. Questo trattamento totalmente naturale, che quindi non ha effetti secondari, sul nostro sistema endocrino o tanto altro, stimola la crescita del cappello dalla radice. Io ho notato i capelli più folti, anche più voluminosi in radice, dopo aver iniziato, mesi addietro, il trattamento con questo prodotto. Questo è un trattamento per la crescita, volume, ricrescita dei capelli, un trattamento anticaduta, di cui vi ho già parlato. Contiene tutti i benefici e tutte le caratteristiche del brand Freshly, packaging in vetro, è un prodotto vegan, cruelty free, usato nei cambi di stagione, vi riduce visibilmente la perdita di capelli, e stimola anche attivamente la crescita di nuovi baby hair. Si stende anche tutte le sere sulla cute, lo scalpo con un massaggio delicato. La peculiarità che me l'ha fatto apprezzare è che non unge, non sporca e non appesantisce il capello, quindi può essere utilizzato tutte le sere senza bisogno di lavare i capelli. Si assolve molto facilmente e si asciuga con altrettanta facilità. Prima di passare agli altri buoni propositi per il 2022 un po' più personali, termino con l'ultimo prodotto Freshly che mi ha ispirato questo video, ovvero a Radiance Keratin Spray. Lui rimarrà un punto fermo della mia routine capelli. Come sapete ha un sacco di proprietà. È uno spray alla keratina vegetale, funge da termoprotettore, gli aiuta a districare i nodi, a rendere più morbidi, lucenti e pettinabili i capelli. È un trattamento che io utilizzo non solo come termoprotettore, ma anche come trattamento anticrespo. Su capello umido, prima di asciugare i miei capelli, vado a spruzzarlo e voilà, il gioco è fatto. Non so quante confezioni effettivamente mi avete visto utilizzare negli ultimi mesi di questo trattamento alla keratina firmato Freshly Cosmetics, ma è assolutamente uno dei miei, mai senza nella mia routine beauty per quanto riguarda i capelli. Altri buoni propositi per il 2022. C'è l'esigenza molto sentita di fare sport. Non sto più facendo sport. Da anni, da troppo tempo, ho anche smesso nell'ultimo anno di camminare. Si arriva a fare così tante cose, soprattutto per una donna. Io credo di poterlo dire forte. Una donna fa il doppio di un uomo perché deve pensare alla casa, alle faccende, al lavoro. Ha tantissimi aspetti e io non ho ancora figli. Sappiate che stimo le donne che lavorano a noi, loro abbiano anche dei figli. Davvero, ve lo dico, non so come voi facciate, ma siete le mie eroine. Fatevi un applauso da sole in questo momento perché siete forti. Io mi sono resa conto che ci sono giornate in cui non ce la faccio neanche a finire di pulire casa o a mettere i piatti in lavatrice. Gli sub e i social mi piacciono e mi rendo conto che a volte non ho nemmeno il tempo di star dietro a voi come vorrei, come mi piacerebbe fare e mi rendo anche conto che non ho il tempo di fare una passeggiata. Tra i buoni propositi del 2022 ci sarà camminare. L'altro giorno l'app di iPhone, quella che conta i passi, mi ha dato una stima dei miei passi giornalieri fatti nel 2021. Mi sono sentita un'ottantenne. Mi dava 2.500 passi al giorno quando sappiamo che per stare in salute bisognerebbe fare almeno 10.000 passi al giorno. Il mio telefono me ne segnalava 2.000 al giorno. Questo significa che io non cammino e sapete cosa significa? Soprattutto sul lungo periodo non camminare. Senza perdersi in allenamenti specifici che tanto so che non avrei neanche voglia di fare. Voglio iniziare a ricamminare, a meno fare i passi necessari per mantenermi in salute perché ho totalmente perso di vista l'attività fisica ed è fondamentale. Perché poi camminando si crea un circolo virtuoso che ti fa effettivamente anche stare meglio. Siamo solo a quante sostanze positive il nostro corpo genera con lo sport. Le endorfine, gli ormoni del buon umore, insomma, diamine, anche ora c'è il sole, finisco questo video ed esco, mi faccio la mia camminata, fosse anche un quarto d'ora, fosse anche intorno a casa, ho anche la fortuna di avere la natura qua fuori. Altro buon proposito per il 2022, godermi il sole. Quest'anno sono stata uberata di lavoro, sono stata a pienissima presa, non mi sono goduta neanche un giorno di mare e ho il mare a 20 minuti. Il sole, il sole è vita, è energia positiva, è salute, è vitamina D, ok, ma è qualcosa di altro, è energia pura. La protezione solare, quella sempre, mi raccomando. Altro buono proposito, non scordarla mai, non scordare mai la protezione viso neanche in inverno. Ci sono altri buoni propositi che non vorrei sottovalutare per questo 2022. Il primo è assumibile nella parola gentilezza. Propongo di essere più gentile con il mio prossimo, perché non sempre nell'ultimo periodo lo sono stata. Altri sì, allo stesso modo, con la stessa intensità però, esigo che anche gli altri siano altrettanto gentili con me. Ecco, questo sarà un buon proposito che sia nelle relazioni lavorative che in quelle interpersonali dovrà essere un punto fermissimo nel 2022, soprattutto a fine anno ho avuto in ambiti lavorativi e anche personali, perché no, un sacco di mancanza di rispetto. Ecco, io lo dico a me stessa per rimandarlo anche a voi, non permettete mai a nessuno di mancarvi di rispetto, qualsiasi sia l'ambito del rispetto. Chiedete il giusto compenso se si tratta di lavoro, chiedete la giusta distanza chi prova a usurparvi, a comandarvi, a mettervi i piedi in testa, no, mettete e mettiamo tutti insieme le giuste barriere, gentilezza, rispetto. Mi sono resa conto che ho dato, dato, dato nell'ultimo anno senza chiedere quasi nulla in cambio a troppe persone, partendo dal lavoro, soprattutto dal lavoro. Ne ho preso atto e spero di metterlo in pratica in questo 2022, c'è una netta distinzione tra persona buona, persona disponibile e persona che si lascia sfruttare, succhiare l'energia, succhiare il tempo, succhiare la fatica, che si svende, si regala senza motivo. E questo non è furbo, non è costruttivo per noi stessi. Il nostro tempo ha un valore, la nostra presenza, la nostra persona ne ha anche di più. 2022, io mi sono resa conto che intorno a noi, parlo un po' per tutti, secondo me, vi ritroverete, nelle mie parole, siamo invasi da perditempo e i cosiddetti funghetti energetici, cioè quelle persone che ci parassitano energeticamente, ci sfiancano, basta una conversazione con loro per sentirsi prosciugate, mettiamo una barriera, facciamolo subito e tutti insieme, ne vale per la nostra salute fisica e anche mentale. non è certa che anche voi avrete persone di questo tipo, non sono persone nocive, impariamo a mettere dei paletti a costo di rischiare e di risultare poco educati, forse, ma ne vale della nostra salute, del nostro equilibrio e della nostra energia, non permettiamo a nessuno di scaricarci, impariamo a mettere un paletto tra noi e i perdi tempo, ne ce ne sono tantissimi, io sia sul lavoro che a livello personale, mi rendo conto che ho sempre persone che cercano di distrarmi dal mio percorso, delle mie passioni, da ciò che mi piace fare, mi portano via tempo e anche energia. Altro buonissimo proposito, via le negatività e alle persone negative. Ci sono tanti tipi di negatività e alcuna è una negatività data dal dolore, non vi sto dicendo di fregarvene di queste situazioni, però ci sono un'altra serie di persone che sono negative, spesso anche invidiose di voi e cercano di affossarvi, lo fanno con parole e gesti concreti. Sono le classiche persone che sono sempre pronte a puntare il dito su ciò che fate male o che non va in voi che quando invece avrete un successo non ve lo faranno mai notare. Teniamole alla larga, veramente. Altro mio buon proposito assolutamente sarà non rinunciare alla mia femminilità. Sapete che mi sono resa conto di aver cambiato soprattutto in ambito lavorativo esterno il mio modo di vestirmi perché sentivo quasi la mia fisicità un po' troppo femminile, un po' troppo ingombrante. C'è un passo dei promessi sposi di Manzoni che recita così Omnia Munda Mundis è bellissima questa frase ovvero tutto è puro per i puri. Mi sono sentita anche di recente giudicare per una gonna un po' troppo corta. Il risultato è stato che io non ho più indossato quella gonna o gonne corte. Stiamo scherzando? Basta una gonna del 2022 a fare di te una persona un po' così probabilmente sì ma non è un problema nostro è un problema degli altri è un problema di rettaggi obsoleti stupidi di patriarcato di maschilismo di tutte queste cose e qui sull'assonanza della parola è in grado di farmi uscire i nervi. Io sono ambra non sono la mia gonna non sono la mia coscia poco tonica o più tonica in base ai tempi e se faccio i fanghi o meno. Altro buon proposito del mio 2022 sarà smetterla di lamentarmi mi sono accorta che mi lamentavo troppo e questo mi portava a focalizzarmi su ciò che non andava e a non costruire se poi iniziavano anche persone negative a intrufolarsi in questo mio ragionamento mi ero resa conto che mi ero messa in una scatola di cose che non andavano smettiamola di lamentarci ok? Basta se qualcosa non va passiamo oltre facciamo la cosa dopo o prendiamo la stessa questione ma da un altro punto di vista che sia costruttivo e non distruttivo e qua mi collego anche alle persone negative che quasi si compiacciono nel farti notare che sta andando tutto male no questo potrebbe essere un momento c'è sempre una soluzione c'è sempre una costruzione non focalizziamoci mai su quello che non va torniamo al discorso del vecchio il mare di Hemingway facciamo con ciò che abbiamo proviamo a cambiare la prospettiva l'energia sparigliamo le carte introduciamo persone e situazioni nuove nella nostra vita insomma badiamo a costruire e a stare bene e tutto il resto sa giusta sempre c'è sempre un rimedio e l'universo lavora sempre per noi per darci il meglio non è colpa dell'universo se noi interpretiamo male o respingiamo il messaggio e l'abbondanza che ci vuole regalare l'ultimo buon proposito del 2022 dire grazie dire grazie a tutte le persone che ci regalano un qualcosa senza che l'abbiamo chiesto dire grazie a chi ci offre un caffè al bar da lontano salutandoci così e in quel momento ha pensato a noi dire grazie alla vicina di casa che per Natale mi ha fatto i biscotti e mi ha portati davanti casa ed erano buonissimi dire grazie a chi mi spiega le cose senza urlare per vedermi migliorare dire grazie a chi mi solleva da un peso dire grazie a chi c'è senza chiedermi nulla in cambio dire grazie a chi ha avuto il tempo e la voglia di ascoltarmi dire grazie a chi mi ha dato una pacca sulla spalla perché si era accorto che in quella stanza piena di gente ero l'unica che non sorrideva dire grazie a voi che state sempre ad ascoltare i miei video dire grazie a voi che supportate il mio canale attivamente perché vi siete accorte che questo non è un canale non è un semplice lavoro ma c'è dietro una persona che vuole comunicare e vuole stare bene mentre cerca di farvi stare bene grazie grazie